E' ovvio. No, non lo so per certo. No, io credo di me. E chi sono? Non mi intendo di politica bianca, lo sai. Ma Sandra e Giuliano stanno investigando. Quando tu zio sarà scagionato, dichiareremo il nostro amore. Questo non possiamo farlo. Perché no? Mio zio non la consentirebbe mai. Lo stesso vale per tuo padre. No, mio padre ha già consentito una volta. Eravamo bambini. Tuo padre e i tuoi fratelli ieri stavano per morire a biancare. Non dobbiamo fare molta attenzione. Per noi sarà finita. Grazie. 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 Grazie.